Ehi ragazzi sono tornato, oggi vi mostrerò un modo per fare crediti velocemente e con pochi soldi Questo a mio parere non è un vero e proprio trucco come quelli che si trovano in giro Ma è una mia semplice osservazione che è attuo da quando gioco a FIFA Ultimate Team Ora vi illustrerò in breve come fare Allora se avete, vi bastano 400 crediti perché vi spiego Aprite, andate in scambia, scusate in negozio E iniziate a comprare i pacchetti bronzo Perché i pacchetti bronzo direte? I pacchetti bronzo sono composti da a volte buoni oggetti Buoni oggetti che si rivendono a molto diciamo Non sembra molto però c'è un guadagno Un esempio, i giocatori, i contratti li metterete a un prezzo comprare di 200 Ne avete due quindi sono già 400 Sono 400 crediti e avete già recuperato il prezzo Poi se vi capita troverete degli stadi con morai più 5 Ci sono sempre bronzo Delle magliette che sono tutte da vendere E li venderete anche a 200 I giocatori, se siete fortunati da trovare un giocatore col modulo 4-1-2-1-2 Potete vendere anche a 500-600 Quindi secondo me c'è un guadagno Almeno non dico 1000-2000 crediti a bustina Ma 800-900 ve li farete quasi sempre Poi se vedete naturalmente che sono dei giocatori che non servono a niente Li prendete e li buttate via Li scartate e prendete pochi crediti Ma adesso io questi qua li lascio nel club E proviamo a aprire un altro pacchetto Apriamo un pacchetto bronzo premium adesso con 750 crediti Vediamo cosa troviamo in questo Buono I contratti Li vendete sempre a 150 con il prezzo compra ora a 200 Infortuni, questi qua anche a 200 Voi mi raccomando Se non vedete che sia proprio una cosa importante Che potrebbe valere molto Vendete tutto a 150 e il prezzo comprare a 200 E non ve ne pentirete Adesso Adesso vi lascio io Spero che questo tutorial vi sia piaciuto Mi raccomando di mettermi piace E di diventare fan della mia pagina Facebook Beh, ciao a tutti Grazie a tutti